Ciao, io sono Federico e benvenuto sul mio canale YouTube in cui parliamo di Excel. In questo video capiremo come bloccare dei riquadri su Excel in modo da non dover sempre andare avanti e indietro sul nostro foglio. Ma bando alle ciance, andiamo subito su Excel. Ok, ad esempio avremo una tabella di questo tipo organizzata in modo tale da non avere un'intestazione fissa o magari avendo la necessità di doverci spostare da sinistra verso destra perdendo il valore della prima colonna. Come facciamo quindi per bloccare o la prima riga o la prima colonna? Semplicemente ci basterà selezionare, quindi cliccare col mouse nella cella in cui abbiamo intenzione di voler bloccare i nostri riquadri andare sul tab in alto visualizza e dopo andare su blocca riquadri. Blocca riquadri ha tre impostazioni blocca riquadri, blocca riga superiore oppure blocca prima colonna. Blocca riquadri serve ad identificare l'incrocio tra una riga e una colonna in modo tale che Excel bloccherà sia la riga che la colonna e possiamo decidere di impostare questo valore ovunque vogliamo nel nostro foglio. Ad esempio, un blocca riquadri fatto in B2 bloccherà la colonna A e la riga 1. In questo modo, quindi visualizza, blocca riquadri, blocca. Cosa faremo? Scorrendo, il nostro testo rimarrà sempre bloccato sia in colonna appunto che in riga, in questo modo. Più andiamo giù rimane sempre fisso. Se ne avessimo applicato, ovviamente per sbloccare ci basterà tornare su bloccare i quadri e premere sbloccare i quadri. Se noi lo avessimo applicato alla colonna D, cioè la 4, quindi D4, riga 4, Excel cosa farà? Bloccherà la colonna A, B e C e la riga 1, 2, 3. In questo modo, blocca riquadri, blocca riquadri. In questo modo avremo le prime tre righe bloccate e le prime tre colonne bloccate. Ovviamente per sbloccare, torniamo su sbloccare i quadri. Allo stesso modo, invece, se vogliamo bloccare solamente la prima riga ci basterà semplicemente andare su blocca riga superiore ed Excel automaticamente terrà fissa la nostra intestazione. Sbloccare i quadri oppure blocca la prima colonna ed Excel terrà fissa appunto la prima colonna. In questo modo avremo la più semplice gestione del nostro file Excel senza dover continuamente andare avanti e indietro e senza avere la necessità di nascondere delle celle. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo cortesemente di lasciare un like e di iscriverti al canale. Ci vediamo per altri consigli su Excel sempre sul mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!